Dal 26 al 29 di ottobre si sono svolte a Torino le giornate del Premio Morione, laboratorio di giornalismo investigativo dove gli under 30 hanno avuto la possibilità di realizzare le loro inchieste grazie al sostegno di tutore esperti. I progetti finalisti, a cui sono stati assegnati 4.000 euro ciascuno per la realizzazione, sono stati in tutto 5. Oggi vi raccontiamo colpo di lusso in Birmania, nella categoria videoinchiesta, realizzato da Francesco Boscarol, Ludovica Iacovacci e Priscilla Ruggero. Colpo di lusso in Birmania mostra come il raffinato legno tech e i preziosissimi rubini di Mogok arrivino in Italia tramite paesi terzi come Cina e Thailandia, arricchendo le tasche delle imprese del lusso made in Italy sulla pelle del popolo birmano. Ascoltiamo ora le parole di Ludovica Iacovacci nell'intervista. Qual è stato l'impulso che vi ha portato a scegliere il tema dell'inchiesta? Allora, l'impulso viene da me perché io sono una appassionata di Myanmar, di Birmania e credevo che indagare sui traffici illeciti che legano il nostro paese, cioè l'Italia e la Birmania potesse portare alla luce qualcosa di nuovo, come infatti è stato grazie anche ai miei due colleghi Priscilla e Francesco. Perfetto. E che realtà emerge dalla vostra inchiesta? La realtà che emerge dalla nostra inchiesta è una realtà molto triste perché evidenzia che per interessi economici continuano traffici che a seguito delle sanzioni europee dovrebbero smettere. In particolare si parla di traffici riguardanti il commercio di legno, tech pregiatissimo e pietre preziose, in particolare i rubini di Mogok che vengono entrambi gli elementi proprio dalla Birmania. E quali sono state le principali difficoltà e criticità che avete avuto durante la realizzazione dell'inchiesta? Le principali criticità sono state sicuramente quelle incontrate sul campo, in particolare quando siamo andati in Thailandia. Io mi sono finta una commerciante di gemme per capire, entrare dentro la storia e svelare il meccanismo che si cela dietro non solo il commercio di letto ma soprattutto la triangolazione. E poi i dissidenti birmani, far parlare dei dissidenti, ovvero delle persone che sono in guerra nel proprio paese, che combattono contro la giunta militare, farle aprire davanti a una telecamera per ottenere testimonianze è stata un'esperienza particolarmente attaccante tanto da un punto di vista professionale e giornalistico quanto da un punto di vista umano.